Buonasera a tutti, oggi è domenica 17 luglio, sono le 23.17 e faremo una rapida night session con l'Evoluta per ragionare sull'andamento di Bitcoin. Eravamo arrivati ieri a dire che avevamo una probabilità di salire, scusate, due probabilità ancora al massimo di salire contro più di scendere perché l'inverso, partito da qui, è arrivato a 9 barre su massimo 11. In questo momento stiamo vedendo che però c'è un anticipo di discesa. Peraltro la roba strana è che qui abbiamo soltanto 19 barre e non ne abbiamo 24 e qui siamo arrivati a 38 su 44, quindi abbiamo ancora eventualmente fino alle 3 e mezza di questa mattina e sapete che l'orario è quello caldo per Bitcoin e per le crypto per ritornare almeno sopra questo massimo a 21.606 piuttosto che in realtà poi su questo 21.666. Questo per il fatto che qui a 21.606, da dove è partito il supposto decimo T-3, abbiamo avuto, dopo appunto la partenza 21.606, abbiamo avuto una violazione a 6.666, a 21.666. Per cui ci dovremmo aspettare un movimento, ve lo faccio vedere come al solito graficamente perché è più semplice, primo T-4 che si vincola però a ribasso per l'inverso e quindi a rialzo per i prezzi, secondo movimento che compongono il nostro decimo T-3 inverso che dovrebbe tornare quindi su questi massimi. La cosa, allora non mi piace per niente che si sia andati sotto questo minimo perché la forma del ciclo di nuovo non è quella canonica. Sulle crypto succedono delle cose differenti rispetto al MIB, però è interessante questa verde che si sta alzando. In ogni caso è possibile che ci sia stato un raccordo perché il 4T-3 non può durare complessivamente 47 bar. Quindi tra un T-1, un ciclo a 4 giorni, 1, 2, 3, 4 giorni ed un altro, possiamo avere però un raccordo di 3 gradi inferiori, ovvero un T-4. Questo peraltro permetterebbe una risalita dei prezzi verso i target indicati con peraltro una gran bella divergenza rialzista che si vede chiaramente sui minimi. Eccolo qua, abbiamo minimi crescenti, minimi decrescenti, divergenza rialzista. Se non conoscete bene le divergenze, ecco, ci sono tanti libri che ne parlano piuttosto che vari siti. In questo caso, se qui fosse partito appunto un raccordo di grado T-4, da questo minimo delle 19.15 dovrebbe partire finalmente il quinto T-3 ed insieme adesso anche eventualmente la partenza di un T-1 e quindi ci potrebbe essere spinta effettivamente verso l'alto. Iniziamo quindi a vedere come minimo se riusciremo a superare questa media mobile a 50 periodi perché se torneremo sopra abbiamo buone possibilità di ritornare a salire entro il tempo dato, ovvero le 3.30 di questa mattina. Viceversa, se iniziassimo a scivolare sotto questo minimo, il nostro trade long andrebbe chiuso, d'accordo? perché va bene arrivare a una lunghezza massima di appunto un T-4 che può essere anche di questa entità. Facciamolo partire da qua, ok. Qui 10 barre non sono abbastanza. Va bene arrivare anche un po' oltre, serenamente appunto alle 15, però si rischia di rimanere qui sotto per troppo tempo, ok. Può essere una situazione come questa. Non mi fa particolarmente impazzire perché sarebbe stato ottimo avere già una cosa di questo tipo. Ok. E vi faccio notare che in ogni caso stiamo continuando a vedere cose bizzarre, ok. Il terzo T che si vincola a ribasso, poi supera i massimi precedenti e poi finalmente scende. Esattamente quello che sta facendo qui al contrario. Parte, sale, si vincola a rialzo, poi scende più del minimo che ha fatto nel primo T-4 e poi eventualmente può salire su. Dobbiamo ragionare sul fatto che sulle crypto possono succedere queste cose perché ormai succedono in continuazione, non è più una statistica blanda. Altre cose in particolari non ne ho da raccontare, oltre a tenere appunto da conto questo minimo a 20.817 e quella che è la possibilità di salire, data dal fatto che appunto può partire da questo minimo o anche da uno leggermente successivo, e ribadisco un T-4 può durare serenamente anche 16 barre, ma poi dovrebbe ripartire appunto un movimento ascensionale che come target avrebbe quelli che comunque vi ho già dato tra i 21.606 e i 21.666 dollari. Direi che per oggi abbiamo fatto il nostro. Vi ringrazio per il vostro tempo e vi auguro una splendida serata. Arrivederci.